Ce l'ho fatta, sono arrivata terza e oggi io ci speravo ma non ci credevo, sono partita alle clavette e ho fatto subito un errore alla fine dell'esercizio e lì mi sono un po' spaventata, poi ho fatto il nastro e mi sono ripresa, mi sono detta lo so fare, basta, posso fare tutto quello che devo fare in pedana e quindi sentivo il tifo oggi, la palestra è piena, quindi un sacco di bandiere italiane e ho detto dai vai, o adesso o mai più, poi dopo il centrio non l'avevo fatto in pratica quasi mai bene, quindi io credo nelle percentuali ho detto è possibile, è matematico che io lo debba far bene, quindi sono stata attenta e lo faccio bene. E poi la palla avevo molta paura però ho detto no, no, stai qui e non c'ho neanche cosa dire, io sono contenta, ringrazio Fabriano, ringrazio l'Italia e tutte le persone che mi vogliono bene e basta. Non ci credevamo, infatti io stavo fuori e ho detto vabbè andiamo a Londra, ma è bello, andiamo a Londra.